Giuseppe Toscano, primi giorni di lavoro qui nella tua nuova squadra, come ti stai trovando? Che impressioni hai su questi giorni di lavoro e sulla stagione che sta per iniziare? Abbastanza positivi, stiamo lavorando bene sia con il preparatore atletico che con l'allenatore. Stiamo cercando, i primi giorni sono quelli un po' di riconoscenza e di mettere in pratica un po' qualcosina ma niente di più. Che cosa pensi della squadra a livello di organico, a livello di qualità? Pensi che possiate fare un campionato importante alla società? Che cosa vi ha chiesto a tal proposito? Sì, questo è un gruppo che si conosce da molti anni, sono sempre più o meno gli stessi giocatori, è un gruppo forte che ha sempre raggiunto play-off, ha lottato per i vertici alti della classifica. L'obiettivo è sempre quello di fare bene, il mio personale e poi c'è della squadra e della società. Che cosa ti ha convinto ad accettare Dronero? Dronero è una piazza che in questa categoria è una società abbastanza confermata, solida e seria. Quindi ho sposato sin da subito il progetto Dronero, nonostante diverse offerte altrettanto positive, ma alla fine ho optato per la vista Dronero.